Sarà un Manussi addobbato a festa con 24.000 spettatori ad accogliere la gara di questa sera alle ore 20.45 fra Cesena e Juventus. Si tratta della 29esima giornata e i bianconeri di Torino in crisi di risultati scenderanno a Cesena dove i bianconeri romagnoli invece vengono da ben tre risultati utili consecutivi. E' ovvio, in paglio c'è tanto, soprattutto per il Cesena, ma anche la vecchia signora cerca un successo che possa riportarla ad una quota in classifica degna del nome che porta. Il Cesena, Ficcadenti sta dando morale ai suoi, giocheranno Giaccherini e Gimenez ai lati di Bogdani. La Juventus invece giocherà sicuramente con Matri e Del Piero in avanti. C'è un solo dubbio e riguarda la corsia di destra dove Sorensen e Grieghera si contendono l'unico posto disponibile. Sentiamo Ficcadenti. Stiamo bene, abbiamo fatto due, sì, è vero, due ultime due partite, due vittorie importanti. Ci consentono oggi di stare in mezzo a gruppo di tutte le squadre che devono lottare per salvarsi. Sì, è chiaro che affrontiamo una partita difficile per tanti motivi, perché la Juve viene da tre sconfitte, credo, no? Quindi è una squadra forte che deve assolutamente fare risultato. D'altra parte noi dobbiamo cercare in altrettanto modo di fare una partita agonisticamente valida, correre, pressarli e cercare di limitare quelle che sono le loro caratteristiche migliori.